L'obiettivo principale di questi briefing è imparare e avere delle lezioni, adesso ne ho segnate alcune. Allora, prima lezione che volevo condividere con voi sul come prendere appunti. Ho notato che molto spesso mettete a registrare quando si fanno le formazioni. Registrare è una cosa bella, quindi non voglio distruggervela come cosa. Però, quando facevo l'università, uno dei miei professori mi disse guardate che è un po' pericoloso registrare, perché autorizzate il vostro cervello a staccare. Ho già fatto questa formazione con i venditori e ne volevo parlare con tutti perché è interessante. E cioè, se voi mettete a registrare, non c'è niente di male, stiamo registrando anche adesso, quindi non c'è problema, ma non dovete staccare il cervello. Voi dovreste ascoltare per ripetere a qualcuno. Cioè, quando io dico qualcosa, per esempio adesso sto dicendo, punto primo, a cosa servono i briefing, punto secondo, devo fare gruppo con gli altri alieni, punto terzo, come si deve prendere appunti. Io dovrei poter rispondere e ripetere le cose che ha detto Andrea a chiunque appena uscito da quella porta. Una volta la chiamai questa cosa, per chi se la ricorda, avere sempre il report in testa. La ricordate? Era di un briefing passato. Avere sempre il report in testa. Io posso fare sempre il report in qualsiasi momento su quello che ho imparato, su quello che ho fatto. È la differenza tra chi guarda un film così per vedere e chi invece vuole servire. Chi vuole servire impara per sé e poi ha proprio quel seme. Cioè, io quando ascolto qualcosa sto già pensando a come la devo spiegare al mio amico. Mi guardo un video su come si fa palestra e già sto pensando a come la devo spiegare al mio amico. È un processo automatico. Guardo un video per, non so, come l'alimentazione più corretta, già sto pensando a come... È automatico. Sto pensando, mentre ascolto il video, come la dovrei spiegare nel momento in cui ne parlo con il mio amico al bar. Così si ascolta. Invece ho la sensazione che tante volte, soprattutto nelle formazioni quelle un po' più tecniche, quelle che fate con i responsabili, voi vi vedete un bel film. Ah, sì, sì, che bello, che bello, che bello. Sì, 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 sì. È un bel film, eh. Cioè, quando parla un responsabile è un bellissimo film da vedere, ma non è un film. Cioè, voi ci avete proprio delle facce... Sì, sì. Che bello, che bello. La faccia che c'hai al cinema quando ti vedi un bel film, ma non è intrattenimento, è formazione. Quindi voi dovreste stare con una postura eretta, cioè dritti, col tavolo belli cazzuti, appunti preferibilmente scritti a mano, non cellulare. Perché il gesto di fare questo non è il gesto di prendere una penna e scrivere qualcosa su un pezzo di carta fisico, solido, nel mondo che si può toccare. Non è la stessa cosa. Quindi preferibilmente vorrei che tutti quanti prendessimo questa abitudine. Procuratevi un quaderno, portatevelo durante le formazioni, portatevelo anche durante i briefing la prossima volta, così potete prendere appunti anche quando parliamo noi. Beh, stavolta non fa niente, non lo sapevate. Evitate i fogli di carta, tanto li perdete i fogli di carta, a meno che poi non li mettete nel quaderno. Cioè i fogli di carta poi li potete insegnare nel quaderno, però dovete avere il quaderno. Chiamatelo quaderno delle formazioni e rendete la vostra vita una formazione costante. Pericolo su questa cosa, chiaramente, non fate che scrivete tutto quello che diciamo. Perché è una noia mortale, soprattutto per chi sta parlando, vedervi... C'era uno in questa stanza che lo faceva, però non dirò chi. A questo punto di solito dico l'iniziale, ma non la dirò. Comunque... Sì, sì, dimmi! No, 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 ti ascolto, ti ascolto! Non è questo. E io dico ciao. Ciao. Non è questo. Sono pochi appunti che vanno presi. Sono pochi appunti, pochi concetti. Poi basta ascoltare. Perciò vi dico, non staccate la testa. Non è che se registrate dovete staccare la testa. Al massimo, sai cosa dovete fare? Se vi perdete un passaggio, o un passaggio non vi è tanto chiaro, voi strizzate l'occhio alla registrazione, fate così. Quanto è? Minuto 15. Perfetto. Minuto 15. Da riascoltare. Nell'appunto. Perché lo so che a volte la domanda la fai, altre volte non la fai, perché ti vergogno, nel momento. Può capitare, mi capitava pure a me a lezione. Tranquillo. Cioè la registrazione, allora ha senso la registrazione. Che stacchi il cervello adesso, per poi, cioè fai solo il lavoro due volte. Non serve a niente. Non vuol dire che non vi potete riascoltare tutta la formazione. Ve la potete riascoltare. Ma è proprio diverso l'obiettivo. Cioè io me la riascolto perché voglio ripassare. Ma io quando sto lì, sto lì e sto lì per capire. Sto lì per capire, sto lì per prendere appunti. Se mi perdo un passaggio, controllo il minuto, così poi me la vado a riascoltare, oppure faccio la domanda al responsabile. E sto lì per ripeterla a qualcuno. Questa è la parte più importante. Io ascolto per ripetere a qualcuno. C'ho sempre il report in testa. Regola principale. Vale? Domande? Giusto per sapere tu come fai, ok il fatto di ascoltarmi nell'ottica devo spiegare al mio amico? Sì. Ti basta pensare questo per poi capirlo definitivamente oppure lo ripeti in qualche modo? Non devi pensarlo, devi farlo. Quindi devi trovarti un amico a cui spiegarlo. Sì. Sì, sì, sì. Oh, sai Bordons, oggi Giuseppe mi ha spiegato questa cosa fighissima sul copy di business alieno. Cioè io pensavo che gli inventori dovessero essere tutti quanti che sanno fare marketing. In realtà gli inventori non sanno fare marketing. Il paint principale è loro e io non c'ho tempo per fare l'azienda. Questo è. Va bene, grazie. Secondo punto. Copiate. fatemi la cortesia di copiare quello che non sapete fare da chi lo sa fare. Ripeto. Fatemi la cortesia di copiare quello che non sapete fare da chi lo sa fare. Non ho sentito? Lo sa fare. Bene. perché vedo troppo spesso che vi inventate la ruota. Vi reinventate la ruota. Se non sapete fare le slide di Keynote facciamo un esempio. Non so fare le slide ho visto i venditori che stavate facendo le slide. Andate da qualcuno che è più bravo. Capito? Andate da qualcuno che è più bravo se sa fare le slide meglio di voi. Ragazzi non so fare tutto quello che faccio. Non lo so a volte copio vado da qualcuno che è più bravo la scena TV è quella con Joe Piem Joe Piem mettimi un po' di emoticon sulle mappe perché io se devo trovare emoticon non ce la posso fare. Non potrebbero essere già animate. Non ce la posso fare. Perché sto a pensare quando sto a fare una mappa alle cose che devo dire non all'emoticon da abbellire. E allora fortunatamente ho Joe Piem che mi supporta e mi sopporta anche che io gli mando la mappa e me la ritrovo tutta bella perché poi mi piace tutta con l'emoticon oppure perché voi dite vabbè ma io non la posso delegare sta cosa lo so lo sapevo fatevi passare le slide da qualcuno che le ha già fatte e copiate 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 potete copiare e non è vietato copiare qua è vietato fare schifo fare schifo da buono non portare risultati qua non va bene non ci piace qua dobbiamo tutti crescere e se copio dal mio amico non sto facendo un torto al mio amico perché probabilmente il mio amico un giorno sarà nominato specializzando strutturato quello che è anche grazie a quello che ho fatto io perché questa è la logica della squadra se cresco io cresce anche lui perché un giorno io potrò fare schifo potrà essere il mese che vendo poco perché sto vendendo poco oppure il mese che i miei contenuti non portano mail e va bene però l'azienda continua a crescere e magari io diventerò specializzando diventerò strutturato anche perché i contenuti che ha fatto il mio amico è questa cosa bella del collaborare quindi aiutatevi e aiutate venitevi disponibili a passarvi le cose a passarvi le slide se non lo sapete fare copiate non è se non lo sapete fare fate un lavoro di merda copiate mettetevi vicino a chi ne sa fare offritegli il caffè cazzo offrite sta già pagato però capito cioè fategli un piacere e in cambio vi fa vi fa il piacere lui se non sapete fa qualcosa mettetevi vicino a chi ne sa più di voi ragazzi io ci sono un sacco di cose che non sono bravo io non sono un bravo tecnico non ero un bravo tecnico non ero un bravo tecnico nell'inserzione non ero un bravo tecnico nel videomaking mi sono messo vicino a qualcuno più bravo di me ho studiato e poi ho fatto oppure quando poi stavo lì a che devo fare qualcosa mi mettevo vicino a qualcuno rubavo un po' il mestiere principalmente da iniziare a Giuseppe rubavo un po' il mestiere e lo facevo pure per i miei video ma il mio talento era un altro sapevo cioè mica vuol dire che non ero bravo vuol dire che ero bravo in altre cose perché non dobbiamo copiare copiate rubate rubate con gli occhi rubate con 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 le idee cioè prendete le cose che funzionano e replicatele duplicatele non è un problema non è un problema è un problema se lo togliete all'altra persona se io lo prendo lo tolgo a te ma io non sto togliendo niente sto solo duplicando papà ha cose di che inoltre avete presente? duplica fai duplica invia inoltre e poi chiaramente ci mettete del vostro perché quando faccio una mappa comunque io ci metto del mio non è che non ce lo metto ma quello che non sapete fare raga andate vicino al vostro amico che ne sa fare di più e copiate e copiate e copiate quando avete copiato 5, 10, 100 volte allora iniziate a fare voi e lo fate meglio non vale soltanto per me che sto in alto e dico vabbè lo delego giù a chi non sa più di me no lo faccio in maniera orizzontale vado dal mio amico e gli dico amico mi aiuti? mi aiuti? è bello è una cosa bellissima è potente diventiamo tutti più bravi e quando sarà il momento lo aiuterò oppure oggi stesso ti offro una birra perché la birra non sta pagata dai sono nei chiedenti ti offro una birra perché mi hai aiutato è una bellissima cosa fa parte della squadra non vi chiudete non state lì a dire no è difficile quindi mi devo chiudere devo fare ci sono delle cose per cui dovete fare le cose in cui siete bravi le cose in cui siete bravi ci sta è un lavoro difficile concentrato c'è bisogno di concentrazione lasciatemi stare devo creare quando devo scrivere un testo tendenzialmente sto lì lasciatemi stare devo creare oppure lasciatemi stare devo registrare ma lì sono bravo quello è il mio talento quindi non mi isolo cioè quindi mi isolo non posso stare in mezzo alla gente che mi distrae devo raggiungere la mia massima concentrazione ma se non lo so fare quale massima concentrazione ha già raggiunto vieno con me dimmi come si fa ho problemi in matematica con attenzione perché così imparo pure io non è che copio e basta copio e capisco e impariamo tutti i respi vogliono aggiungere qualcosa su questo argomento oppure qualche esempio in cui l'avete visto fare o non l'avete visto fare è utile più di tutto è utile cioè è più utile per i respi avere per esempio i report uguali una cosa che io non ti faccio anche per te cercare di farli uguali è più bello ed è bello vedere il team che si migliora cioè il team cresce cioè se Marti G copia Vesk nella sua qualità e Vesk copia Sharon nella sua è tutto un circolo virtuoso in cui è bellissimo e si inizia a fare vicenda e quindi prima o poi torna siete voi di aver imparato e voi di aver dato quindi è proprio utile per tutti ultimo punto l'allievo perfetto o se preferite l'alieno perfetto ho notato che a volte non dite la cosa che sentite veramente perché entrate nei panni dell'alieno perfetto e quindi dico la cosa che in quel momento devo dire avete qualche esempio Resp? si ma c'è un barato gioco capito? cioè prima di spiegarla faccio parlare a voi però ci sono due sia sul dire che anche sul fare vada vada sul dire tipo tanto sul riposo che è tipo ingiudicato che è di riposare eppure noi ci riposiamo perché siamo stanchi in esame a volte però dite no no io mi riposo però cioè poi vengo magari vengo un'oretta poi faccio comunque le chiamate le dritte quando in realtà magari vuoi dormire fino a mezzogiorno però dimmi voglio dormire fino a mezzogiorno perché mi ricarica poi sto tutto il giorno a fare tutto il pomeriggio dopo il pranzo a fare quello che voglio fare e sul fare è capitato con Leo che per lui era gli appuntamenti che faccio mi devono rispondere e quindi se non mi rispondono io non sono un bravo trittista che di base nel senso di stato vuoi portare risultati quindi vuoi che le persone che chiamano poi ti rispondano cioè il coach poi vende da quelle persone però si è creata tutta una cosa per cui quando entra in gioco il giudizio non è più che cioè se ci identifichiamo con il giudizio del ok non ho portato quel risultato quindi non hanno risposto a quell'appuntamento quindi mi giudico e quindi magari non lo scrivo sul gruppo oppure lo tengo un po' nascosto che non hanno risposto quello è non essere alieno non è che non ti ha risposto all'appuntamento e che capita c'è quello lì che magari sarà al mare non ti ha risposto però è come l'affronti non la cosa di per sé e quindi come dicevo a Leo essere alieno è perdonarsi perché magari quella chiamata non l'hai fatta bene e non giudicarti ma darti amore e dire la prossima andrà meglio avete un caso in cui siete stati l'alieno perfetto negli ultimi due giorni? io ero sbagliato a non comunicare il fatto che avevo bisogno di tempo per il trasferimento della casa per trasferirmi in generale anche mentale e non l'ho comunicato e quindi magari ho detto sì va bene faccio questa cosa sì va bene faccio questa cosa e poi magari sono arrivata la sera che devo finire con un task però allo stesso tempo avevo ancora tutto il macello mentale del fatto che non avevo fatto bene una cosa un trasferimento e quindi non mi ero presa del tempo banalmente avevo repressa perché l'alieno perfetto il responsabile ti dice c'è da fare questa cosa e tu che dici? scopo ma sei stanco? no 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 per solo un altro caffè non ci ho preso i 600 è quello sì tutti sappiamo che qui dentro è un valore avere tanta energia cioè di certo qua dentro non è un valore dire ho sempre sonno sto stanco e fin qua ci siamo insomma non ne conosco tante aziende che hanno come valore non so quelle che ventano materassi che bello dormire i nostri valori sono dormire bene riposare bene sì a parte gli scherzi davvero è chiaro che i valori dell'azienda sono questi e sono avere tanta energia essere svegli performanti pimpanti questo però non vuol dire che dovete mentire a voi stessi il responsabile nel momento in cui siete veramente stanchi e come diceva anche Motti non dovete stare lì a farvi tutte quelle pippe mentali quelle cose mi ricordo ad esempio che hai fatto eh sì è questo è quello di riposo no no ma solo un'ora perché non ti preoccupare se ti devi morire nel letto perché devi recuperare devi morire nel letto perché devi recuperare è questo è questo cioè devo dormire punto devo dormire devo fare un ciclo completo di sonno sapete la definizione di ciclo completo della batteria quando la batteria dell'iPhone si scarica fino a zero si dice anche tecnicamente questa cosa che devi fare un ciclo completo cioè lo metti a caricare e non lo stacchi finché non fa il ciclo completo non è attacco e poi stacco dopo mezz'ora la cosa bella almeno mi hanno spiegato che funziona meglio quando si è scaricata cioè quando si scarica quasi tutta che sta proprio lì per morire il telefono gli fai fare un ciclo completo e lì proprio si deve caricare al 100% ma hanno spiegato che anche tecnicamente questo fa fa restare la batteria in un buono stato per più tempo ogni tanto la batteria deve fare un ciclo completo cioè si deve mettere là e deve ricaricare ci sta la notte che fai 6 ore che dormi 6 ore dormi 4 ore va bene però ogni tanto la batteria deve fare il ciclo completo quindi ti metti là ciclo completo chiedetelo il responsabile non sempre lo sa se il responsabile vi scassa il cazzo perché ci sono le scadenze ci sono i task da fare è perché probabilmente io gli ho scassato il cazzo che ci sono le scadenze e ci sono gli obiettivi da fare questo sappiatelo tutti cioè quando un responsabile ma anche un ref vi dice qualcosa è perché lui ha una responsabilità che voi non avete che non state vedendo quindi non è cattivo e non sempre può vedere voi come state non è che chissate una sfede di cristal che dice fammi capire la stanchezza cioè io che cazzo non so se devi fare il traslogo cioè lo sai tu e magari stai incasinata per fatti tuoi io posso vedere un po' la qualità dei tuoi capelli e da quella cosa capire se effettivamente c'hai bisogno di un po' di tempo per te e col tempo imparato si capisce perfettamente chi ha dormito e chi no cioè chi ha avuto tempo per sé e chi no Bordon si dice io vorrei non mi sono messo il balsamo stamane quindi aiutate il resp aiutate il resp in questo a dirglielo certo che se tutte le volte allora vuol dire che il problema sei tu cioè se tutte le volte c'è una cosa da fare o stai stanco allora vuol dire che devi cambiare qualcosa a monte è il vostro dovere ragazzi è il vostro dovere e soprattutto è il vostro dovere non essere lì non perfetto quello che mente sapendo di mentire perché dice la cosa giusta perché c'è Andrea Concia o c'è il resp e quindi no 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 ma lo facciamo lo facciamo e non è vero non lo fai che poi non lo fai è brutto ragazzi è brutto veramente è brutto quando ti dicono sì 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 lo facciamo e poi si fa un'altra cosa mi è capitato mi è capitato tante volte preferisco l'onestà cioè preferisco che le persone siano oneste con me mi dicono di sì quando è sì di no quando è no e vi posso assicurare che da me avrete altrettanta onestà questo ve lo prometto volete aggiungere qualcosa? io c'è una cosa sull'affidabilità ma c'è una frase rimasta questa anche perché si è fatta buona si è fatta concludiamo con questo molto vicino sull'affidabilità perché tu per essere l'alieno 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 perfetto tu alla fine fai overselling perché non è cittadino i tuoi limiti vedo che molto spesso delle persone perdono dei punti anche ai nostri occhi perché promettono troppo perché vogliono essere troppo ma una persona in quel momento non sono ancora e quindi va bene essere alzeri di standard ma non essere realistici perché poi che succede che voi promettete tot ma arriva sempre di meno e quindi sembrate che promettete delle cose che poi non fate e c'è questa frase che mi è sempre piaciuta che è se ti chiedono 8 prometti 6 e dai 10 che è una frase molto bella per cui cioè però nella vita è così cioè tu perdi credibilità cioè dopo che passi la vita a fingere di essere una persona che non sei a un certo punto non ci crede più nessuno ma nemmeno tu perché ti dai promettiamo delle cose che non sono realistiche e secondo me un effetto positivo pure di guardare in faccia la realtà è quello che siete in questo momento vi permetterà di creare un rapporto più autentico e di proprio io ho una fiducia infinita nelle persone che sono sincere perché so che se c'è un problema me lo dicono che se mi dicono che fanno una cosa per la farla concordo al 100% ci vogliono le palle vogliono essere affidabili ci vogliono le palle perché a volte devi dire ti posso promettere 6 non 8 ci vogliono le palle e devi dire sì questa cosa la facciamo e poi impegnarti da 10 giustissimo ci vogliono le palle perché poi lo sapete che lo so lo so lo so quella sensazione che si provano dicendo no però adesso non mi stimerà a tutti gli piace lavorare con delle persone che ti dicono sempre di sì se dite di sì ditelo sinceramente sinceramente perché è meglio un no sincero che un sì falso grazie a tutti